Questa... Da Staking Tin a Maracas e un attimo... Sbustiamo! E' fatta proprio bene, stupenda. All'interno troviamo la monetona di Scorbanni, era più bella quella di Pikachu, e tre pacchetti di cui uno, di evoluzioni etere. Cominciamo! Lady Reverse... Oh, una V! Che cos'è? Insomma, è una Morus V! Secondo! Torquell Reverse e... Ma stiamo, scherziamo, che è sto Dustox? In nome del Mechico, fatemi trovare qualcosa! Timpor Reverse e... Non ci sto credendo! Oh mio Dio, una V-Max, che cos'è? Bello! Doraudon V-Max! Come il pacchetto! Iscriviti perché Deoxys ci aspetta! Che cos'è? Che cos'è?